Io credo che questa sia un'occasione veramente unica, che sia veramente un'iniziativa molto importante a cui bisogna partecipare attivamente, finalmente arte popolare, arte d'elite, nomi grossi, nomi famosi si uniscono in una lotta veramente costituente di affermazione che la cultura e l'arte è essenziale per l'essere umano quindi vi invito veramente tutti a partecipare, a togliersi questa snobberia di essere artisti e partecipare a questo bando mettersi in gioco, questa è la grande novità di Macao, mettersi in gioco Senti, mi dai 200 euro che mi hai promesso questa cosa? Ok, va bene, faccia 150 No, no, 200, si spacco tutto, 200 euro e basta, dai, me ne devo andare, sbrigati Va bene, grazie Grazie a tutti Grazie a tutti